ariete grande dinamismo per voi il cielo astrale esalta le energie ma deve fare i conti con la nuova dissonanza di giove che si pone in aspetto di opposizione rallentando per qualche tempo l'espansione dei vostri programmi cercate di non eccedere nelle vostre manifestazioni toro giornata dai contorni nervosi che vi suggerisce di non prendere troppo sul serio le sensazioni stizzite che possono provocare guasti nelle relazioni con chi vi sta vicino buone invece le occasioni di incontri intellettivamente stimolanti e l'agilità mentale gemelli la sfera sentimentale è il punto di forza del momento caratterizzato da buone angolazioni di venere giove ed oggi anche dalla luna che svolgono un lavoro di ampliamento delle vostre storie amorose della visione affettiva e ottimista delle cose di tutti i giorni cancro siete concentrati sulle vostre attività e su alcuni progetti che rendono brillanti le vostre idee ma un po' lontani dall'amore e dall'armonia affettiva che adesso risulta spesso compromessa fate una buona autoanalisi se davvero non avete qualche responsabilità leone la luna opposta genera una giornata spenta o irritante le percezioni emotive sono basse e rendono cupe le sensazioni in realtà avete ottimi motivi per esultare visto il benevolo quadro astrale che vi sorride gravido di sentimento forza e una carica di espansione positiva in arrivo vergine sole e mercurio congiunti nel vostro segno sottolineano la tendenza alla conversazione alla comunicazione ad un senso di irrequietezza che vi porta a muovervi il momento è buono per intraprendere una attività o qualcosa che vi stimola particolarmente bilancia giove sta iniziando il suo transito nel vostro segno e sarà in grado di proteggere favorire le vostre iniziative un andamento di vita più gradevole e soddisfacente anche venere transita nel segno ed è apportatrice di armonia in amore e benessere personale scorpione oggi emerge qualche spina le emozioni sono aspre e infastidite e vi orientano verso atteggiamenti polemici e duri un buon supporto arriva invece da sole e mercurio che sostengono idee e comunicazione procurando una bella progettualità inerente attività e interessi personali sagittario motivati e tenaci nel portare avanti i vostri obiettivi state assistendo ad un cambio di rotta delle configurazioni astrali che vi riguardano che si dispongono gradatamente in angolazioni di favore eliminando molti carichi e concedendovi sollievo e qualche successo capricorno si mantiene positiva alla forma fisica e mentale in equilibrio e frizzante mentre si pone in aspetto dissonante e giove che non elargirà più per il momento agevolazioni anche venere vi è nemica e appanna il settore sentimentale causando una lontananza psicologica dall'amore acquario la luna di passaggio nel vostro segno esalta il lato sentimentale ed emotivo delle vostre percezioni rendendovi ricettivi e sereni un cielo astrale davvero propizio e in accrescimento segnala un periodo di grandi occasioni da utilizzare per realizzare qualche sogno pesci si ammorbidiscono le tensioni venere giove in zona neutra non provocano disagi anche se non elargiscono effetti speciali mentre rimane un po' offuscata e incerta la capacità decisionale preda di pensieri poco convincenti e un po' confusi rilassatevi di più buone stelle